Ok, hola 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 da Berro e da Fronzo che in questo preciso istante sta registrando un episodio di Final Fantasy quindi per cui durante la sua registrazione, non so bene quando la metterà in onda sentirete me che dico guarda vado un attimino a registrare una cosa che cos'è allora prima mi sono messo a craftare le cose con l'altare di sto cazzo allora ho detto, come noterete sto andando a casa di Carbo, adesso capirete perché allora io ho fatto questa cosa qua, andiamo eh, dov'è? Alchemy, taumaturgia, eccolo qua Wound of Focus Dislocation, praticamente sta cazzo di cosa, instability, danger infatti tipo ho fatto esplodere la stanza di Airborne quattro volte prima di poterla fare in maniera decente e il signor Jolly ne è testimone, vero Jolly? Vabbè, vabbè Ah tra l'altro salutiamo anche il signor Superbussola Ciao a tutti e il signor Vimborone che non so se ci sta sentendo Ciao ragazzi, perfetto ovviamente tutte quante queste, anche i Kimoto c'è però nella stanza di sotto logicamente per chiunque volesse andare a vedere che giusto per fare un altro po' di pubblicità che non fa mai male tutte quante queste persone hanno un loro canale di Youtube tutti quanti i canali di Youtube sono messi in descrizione e ognuno tipo ha un approccio diverso a Minecraft che è una cosa molto bella da fare, molto bella da vedere allora in pratica quella cazzo di Wound of Dislocation che ha questo aspetto qui, guardate tipo in alto a sinistra Currently Dislocated Extra Contents, d'accordo? è una bacchetta che è in grado di togliere via un blocco da un punto e metterlo in un altro punto quindi tu tipo l'assorbite, lo ciuppi e vai via allora adesso vi faccio vedere, vedete la T? ecco, eccolo, dove lo metto? ma che ne so, dove ti pare? ma che cazzo io me la metto in casa? ma no, io volevo vedere se funzionava ma l'esperimento ho riuscito! e dai, mettiamola a casa di Carbo e Jolly sì 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 sì, qualcuno registri perché vabbè e vado a prendere anche io quello di Blaze o di Creeper Galattici qua naturalmente è dato in scala esponenziale in pratica che cazzo abbiamo fatto? abbiamo preso uno spawner di zombie l'abbiamo tirato su, come vedete in alto mi ha ciuppato completamente metà di terra quasi tutto il perdizio e quasi tutto l'ordo e adesso non so dove cazzo glielo mettiamo, ragazzi dove glielo mettiamo? nella stanza delle bacchette no, dove glielo mettiamo? qua dentro ditemi, ditemi che è bellissimo qua 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 dove dove? qua Jolly non ti vedo cazzo vediamo Jolly qua dentro, qua nella stanza della mappa qualcuno mi sente? qua! ma dove? ah qua qua ma gli fanno un casino totale dai vanno a fuoco cazzi vari brutto ma dove? allora facciamo così qualcuno ha delle no, non gli mettiamo delle torce avete una sì, mettete delle torce prima in maniera tale che in questo posto si riempie di merda e vediamo qualcuno ha un cartello perché dobbiamo un attimino tipo firmare questa nostra cosa no? giusto? giusto? qualcuno ha un cazzo di cartello Jolly? no, no, no ho un alieno va bene uguale no aspetta che guardo se qua sopra ci abbia un cartello io ho un cartello hai un cartello? oh fantastico allora allora adesso gli scrivi se non dovesse bastare ho anche questa no, no, no metti il cartello rivolto verso di me con su scritto con amore da Jolly Raiden Vimbor Ikiboto e Superbuso io faccio altro ah ok va bene allora va bene se fermiamo anche da parte ah, sei pronto? allora Ting con amore da due punti Raiden virgola Jolly virgola Vimborone Superbus e Ikki lascia anche questo eccolo qua ok che cilassi? no ma se lo shottano i cosi appena vengono fuori ok levateli dal cazzo Vimbor levati dal cazzo ah no aspetta glielo mettiamo qua vicino perché se no ecco PIM eccolo qua eh che bellezza bene adesso leviamoci di culo che così bene esperimento riuscito grande via anzi no quel cazzo adesso io mi ricarico anche il piedistallo con la sua il suo punto che così gli rubiamo anche le risorse perché non contenti però non abbiamo né ordo né perdizio perché siamo stronzi ah no si c'è la qualcosina questo punticino che gli sto completamente prosciugando che meraviglia la terra ahia il piccone qua arrivano cose beh è carino ma chi è che mi ha tirato un piccone che cazzo me ne faccio guarda che ressa porca puttana ma siete levatevi dal cazzo bene fantastico questo qua era la sua quindi gliela rimettiamo plic ma non gli fottere la bacchetta coglione vieni che chiudo l'episodio ah volentierissimo pipipipino ecco questo qua era il pinno di prima che eccetera eccetera bene abbiamo fatto la griffata del giorno e considerato che era un altro rimasto da dire dal signor anzi no un cazzo salutiamo le persone che ci hanno fatto compagnie in questo brevissimo episodio ciao 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 vimborone super bussolone ciao a tutti ikey motors ikey saluta guarda mamma sono un maghetto ecco sto andando in cinema l'armatura l'armatura dal baco come sei fico no faccio cagare ikey non saluta vabbè pazienza ricordiamo di nuovo che tutte quante queste persone hanno un cazzo di canale youtube andatevelo a vedere altrimenti vi strappo le ovaie nel frattempo considerato che non l'altro è rimasto da dire da berro non ho ancora capito se ho registrato questa cosa ma fronzo ma ormai è troppo tardi fronzo adios a todos